Continuano gli allenamenti della Delfest Avellino presso il quartier generale del Pala del Mauro. Domenica alle ore 18 arriva a Bisceglie, seconda forza del campionato, e che insegue Agrigento a distanza ravvicinata. Sono attualmente quattro i punti che dividono la corazzata pugliese dalla vetta dei siciliani. I lupirpini di coach Giovanni Benedetto dovranno riscattare inoltre il passo falso del match di andata. A guidare i biancoverdi c'era ancora l'Adolfo Robustelli e allora la Delfest durò poco più di 10 minuti per poi sgretolarsi. Non ci sarà Alessandro Marra o mai il parchè per il capitano, sembrano tanto ricordo. Il suo infortunio muscolare è più grave del previsto e proseguono le cure grazie all'apporto del prof. Piccariello. E neanche quindi contro i leoni il cestista partenopeo sarà della contesa. Dunque Caridà e Aerovic saranno chiamati a nuovi straordinari dopo quelli di Cassino. Delfest che insegue la sua seconda vittoria di fila dopo quella di sapere scorso nell'impianto laziale e che insegue la continuità, questa sconosciuta, perché Avellino soltanto nel periodo prenatalizio aveva ottenuto due vittorie di fila, quella del Mauro contro Forio e quella di Formia. Poi il nuovo blackout fatto di due altrettanto sconfitte di fila, quella di Luvo e quella contro Reggio Calabria al palo del Mauro. La salvezza ora passa per il palasporto irpino che sia bisceglie, che sia grigento e ora che i lupi inizino ad affilare le zanne.